Negli ultimi giorni ci sono state importanti novità a riguardo dello scorporo della rete di Team e in particolare a riguardo dell'acquisizione della nuova società, denominata genericamente Netco, che si verrebbe a creare proprio a seguito di questa operazione di scorporo della rete da quella che è la società Team Overall. Infatti il 22 giugno 2023 il consiglio di amministrazione proprio di Team ha esaminato le ultime offerte non vincolanti ricevute da KKIR da una parte e Cassa Depositi e Prestiti e Maguire dall'altra ritenendo migliore alla fine di tutte queste analisi l'offerta di KKIR sia in termini di tempistiche di realizzazione ma anche in termini economici. Una decisione questa che da una parte esclude almeno temporaneamente dalle trattative Cassa Depositi e Prestiti e Maguire e apre invece una nuova fase di negoziazione con KKIR finalizzata a definire entro il 30 settembre 2023 un'offerta vincolante questa volta per quanto riguarda la nuova Netco. Una notizia questa sicuramente molto interessante perché arriva a seguito di una serie quasi infinita di rilanci partita nel febbraio-marzo 2023 quando KKIR e Cassa Depositi e Prestiti e Maguire avevano presentato le loro prime offerte rispettivamente da 20 e 18 miliardi che erano state poi rifiutate nel corso dello stesso mese di marzo con la possibilità però di effettuare dei rilanci entro la metà di aprile rilanci che poi effettivamente erano arrivati con un'offerta di KKIR che era salita a 21 miliardi mentre quella di Cassa Depositi e Prestiti e Maguire era salita a 19,3 miliardi ma che ancora nel corso del mese di maggio erano state rifiutate in quanto ritenute non sufficienti dando però ancora una volta la possibilità di rilancio fino al 9 giugno ed ecco che a seguito di questi rilanci siamo arrivati finalmente alla situazione in cui ci troviamo oggi in cui una strada preferibile è stata quantomeno imboccata ed è come detto quella di KKIR nonostante questo però attenzione a pensare che la partita sia chiusa o che si risolva nell'arco di pochi mesi perché in realtà questa è sì una notizia interessante che fa fare un passettino in avanti verso forse la creazione di questa effettiva netco a seguito dello scopo di Team ma non mancano gli impedimenti, i dubbi a riguardo dell'effettiva concretizzazione di questa operazione per prima cosa è infatti importante segnalare la posizione di Vivendi che risulta essere una posizione assolutamente contraria alla conclusione di questa trattativa sia dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista strategico per quanto riguarda l'aspetto finanziario pare infatti che Vivendi non si voglia troppo smuovere dalla richiesta o dalla valutazione iniziale fatta dalla rete di Team pari a 31 miliardi di euro con la possibilità di scendere fino al massimo a 26 miliardi di euro una cifra che pur non essendo nota l'ultima offerta ricevuta da Team da parte di KKIR potrebbe essere ancora molto lontana da quest'ultima in discrezione del Sole 24 Ore parlano infatti di una possibile offerta finale di KKIR pari a 23 miliardi di euro che comunque lascirebbe aperto un gap di 3 miliardi di euro che rappresentano una cifra di certo non trascurabile per entrambe le società ma come detto le obiezioni di Vivendi a riguardo di questa operazione non riguardano esclusivamente l'aspetto finanziario ma anche quello strategico pare infatti che Vivendi ritenga la parte più importante di Team proprio la sua rete e che addirittura vendendola diventerebbe un morto che cammina come riportato da una delle fonti del Financial Times negli ultimi giorni quindi una divergenza di vedute abbastanza netta che rende ovviamente ancora più complicato anche trattare sulla parte finanziaria perché di fatto Vivendi sta dicendo guardate io questo tipo di operazione proprio non la farei ma se proprio volete farla l'offerta per la rete di Team deve essere un'offerta davvero irrinunciabile dal punto di vista finanziario detto ciò non è però solo Vivendi l'unico ostacolo per lo scorpo della rete di Team come infatti ha ricordato la stessa Team nel proprio comunicato ufficiale l'operazione di scorpo della rete dovrà poi essere sottoposta ad approvazione regolamentare e legale superando sia il processo di Golden Power che dà al governo il diritto di porre un veto su quel tipo di operazioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza nazionale oltre che superare tutto il processo di approvazione dell'antitrust un aspetto quest'ultimo su cui a seguito della scelta di perseguire questo processo di scorpo della rete con KKR potrebbe essere non poi così complicato come invece lo sarebbe stato nel caso di Cassa Depositi e Prestiti e Maguire in quanto Cassa Depositi e Prestiti è il secondo azionista di Team oltre che detentore insieme a Maguire di Open Fiber ma potrebbe essere piuttosto il processo di Golden Power a mettere un po' a rischio l'esito positivo dell'operazione in quanto KKR ha sede negli Stati Uniti anche se poi è bene precisare che come emerso nelle scorse settimane la stessa KKR ha riferito di essersi alleata con altri investitori per portare al termine l'affare tra cui è stato spesso citato il Fondo Infrastruttore Italiano F2I un qualcosa che quindi potrebbe forse favorire e aiutare KKR a portare fino in fondo questo tipo di operazione superando anche il processo di Golden Power anche perché l'attuale governo non ha mai nascosto l'intenzione di garantire un controllo pubblico alla rete nonostante proprio il giorno dopo dell'esito comunicato dal consiglio di amministrazione di Team il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso non abbia in realtà rincarato troppo la dose a riguardo di questo tema almeno per il momento dichiarando che il governo ha lasciato che decidesse il CDA e che si augura che alla fine del percorso ci sia una soluzione di sistema che consente di realizzare una rete nazionale che copra tutte le aree del paese in un regime di concorrenza e che sia convinto che questo obiettivo sarà raggiunto queste quindi le novità a riguardo dello scorporo della rete di Team un tema questo che come sappiamo è importante sia per la stessa Team sia per lo sviluppo delle reti nel nostro paese ma anche per il tema di rete unica con quindi la prospettiva di unire sotto il cappello di un'unica società sia la rete di Team sia quella di OpenFiber e staremo quindi a vedere tra circa tre mesi se effettivamente si troverà la quadra per un'offerta vincolante da parte di KKR per la nuova Netco di Team con tutte poi le prospettive che una decisione di questo tipo potrebbe comportare Grazie a tutti i nostri spettive che un'offerta di KKR per la nuova Netco di Team